I nuovi iPhone sono ormai dietro l'angolo, la data di presentazione è già stata decisa. E se vi dicessi che è possibile dare un'occhiata in anteprima ai nuovi modelli? Io sono Luca, questo Android Pit, e questi sono gli iPhone del futuro. Molti sono i nomi attribuiti a questi nuovi iPhone. iPhone XS, iPhone 11, iPhone X 2018. Difficilmente sapremo i nomi corretti prima dell'evento Apple, comunque. Quello che però ormai è dato per certo è la presenza di tre modelli ben distinti. Per comodità li chiameremo iPhone XS, iPhone XS Plus e iPhone X Lite. I primi due iPhone sono forse quelli più interessanti per la maggior parte di voi. iPhone XS sarà esteticamente identico ad iPhone X, ma con delle specifiche migliorate, come il nuovo chip Apple A12 e una tecnologia F6ID di seconda generazione, stando ai rumor. Stesse specifiche, ma dimensione diversa per iPhone XS Plus. Entrambi monteranno un display con tecnologia AMOLED dotato di notch, e la dimensione di questo notch sarà la stessa di iPhone X. Alcune indiscrezioni su questi nuovi iPhone riguardano anche i colori. Sembra che potremo scegliere tra nero, bianco e la nuova colorazione gold. Il terzo modello di iPhone ricorda molto iPhone X, ma utilizza un display leggermente più grande. Stesso notch, stessa cornice in alluminio, stesso retro in vetro, ma il pannello del display dovrebbe essere un LCD. I rumori a riguardo parlano di Face ID di prima generazione e un prezzo più contenuto rispetto agli iPhone XS e XS Plus. Per quanto riguarda le dimensioni, questo iPhone X Lite si posiziona a metà strada tra gli altri due modelli. iPhone X Lite utilizzerà un singolo sensore fotografico, non una dual camera come gli iPhone XS. Inoltre, delle cornici attorno al display leggermente più grandi e lo smartphone risulta leggermente più spesso, ma lo si nota solamente confrontando i vari modelli. Questo è ciò che Apple ha fatto per abbassare leggermente il prezzo finale per rendere questo modello più economico. iPhone X Lite dovrebbe arrivare in quattro colorazioni più particolari. Vi piacerebbe un iPhone X Lite rosso oppure blu? Personalmente io lo apprezzerei. Questa era solo una piccola anteprima di quello che Apple presenterà sul palco dello Steve Jobs Theater durante l'evento dedicato del 12 settembre. Noi ovviamente seguiremo la presentazione e vi riporteremo tutte le novità. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e condividetelo con i vostri amici che sono curiosi di dare un'occhiata ai nuovi iPhone e mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità che pubblicheremo. Anche per questo video è tutto, un saluto da Luca per Android Pit.